Nuovissimo pack opening qui su EAFC Lewandowski, Modric, Osman Dembele I migliori di questo evento, i tre più forti Diciamo che quello in punta che speriamo di trovare assolutamente Dembele che è devastante Abbiamo quasi 7000 più points dall'ultimo di settimana scorsa Perché questo pack opening non era in programma Ma essendo che i promo della volta scorsa non erano abbastanza Ne abbiamo anche per oggi Guardate qui che bei pacchettini abbiamo da aprire con questa nuova Busta e sono la scherma dei champions 175.000, 85.000, 250.000, 3 da 45.000 Abbiamo un bel pack opening da fare signori Prima di lanciarci un bel mi piace per sostenere questi spacchettamenti Nei commenti voi avete trovato qualcuno di questo evento Iscrivetevi al canale, condividete i video comunque Passate dai miei social e basta parlare Scaldiamo le manine e speriamo di sculare Eccoci qui in EA Questi sono i giocatori finalmente posso farvi vedere nel totale E guardate qui ragazzi molto molto carucci Diciamo che molto carucci è un parolone Ci sono pochi giocatori Secondo me questo qui è un evento che non sciopperei normalmente Però dovevano essere finiti la volta scorsa i FIFA points Finiamoli adesso Il benvenuto Un bacino E primo pacco è Germania COC Bayer Monaco Oddio chi è? COC Bayer Muller dovrebbe essere No è donna Ovvero E la le E la la Primo pacco Magul Mago del Mago Anche un bel doppione Vabbè perché non penso valga qualcosa Però vabbè dai Primo pacco Walkout Noi non protestiamo E' un buon inizio però Signori degli EA Bene il walkout Però Vorremmo anche Un qualcosa un po' più figo Stati Uniti Mamma mia Qualcosa di valore Non diciamo cosa Però qualcosa in più Un bacetto Primo pacco da 50.000 Raga 1000 FIFA points EA Mi guardi negli occhi? Mario Rui Voglio te Svizzera Kobel No Per Kobel era un walkout Poteva avere un valore Sommero 85 No l'hanno depotenziato pure Sommero 84 Ma che cacchata dai 50.000 eh E allora devo girarmi E qua si apre di nasino Nasino Sbagliato E ragazzi io mi giro Nasino Io mi giro e non guardo Io mi giro e non guardo Ragazzi Io spero che sia un walkout 3 2 1 Oh Ma che schifo Ma è un 50.000 Ma che schifo Ma che schifo Ma vergognatevi EA EA Vergognati Abbiamo 1 E 1 Percentuali Giocatore 88 Più Eh perché se me ti conto anche quelli in prezito Ah no Un giocatore 85 Più garantito Ma chi ci crede Usciamo e rientriamo Regà Usciamo e rientriamo Usciamo e rientriamo Desza sinistra Desza sinistra Desza sinistra Desza sinistra Così raga Non capisce nulla Non capisce nulla POM Andiamo sul pacco promo Gli chiediamo Anteprima pacchetti Che significa anteprima pacchetti Poi chiediamo Come si utilizzano i fifa points Perché siamo nuovi Il gioco capirà che siamo nuovi Ci dropperà una sculata Ma dobbiamo cliccare questo Ah ma mamma mia Per un attimo Penso che l'ho aperto Per davvero Non riesco a cliccare Ups Cliccato No Inglese TD trend Nemmeno Trippier 85 1088 Più garantito Ma dov'è l'80 C'è Questo 85 Più garantito Questo è il migliore del pacco No ragazzi Io mi sento male Non scioppate Ricordatevi sempre Non scioppate ragazzi Perché non ne vale la pena E in modo più apri il 185 No ragazzi Io non ce la faccio Io ve lo dico Io non ce la faccio col cuore Io col cuore non ce la faccio C'è ragazzi Dai Apriamoci subito L'ultimo da 600 Che avevamo lasciato qui Pacca da 600 Dai Please Buono Ti prego Germania Basta Germania DC Borussia Sule Potrebbe Non lo so Sule Hummels Quanto è Che cacata Per l'anima Dessi Ma che cacata Ragazzi Ma vomitevoli Questi pacchi Dai ma fan cacare Eccolo qui signori E' proprio lui Il pacco Da 175 Mila Raga Pacco Da 175 E io vi dico Le percentuali 65% 88 Più Io che vi devo dire Sono fake Perché prima diceva Prima diceva Giocatore minimo 85 Più 85 Quindi ragazzi Sappiamo al 100% Che in questo pacchetto Sarà un 86 Lo sappiamo bene Quindi signori Dobbiamo richiamare Mario Rui Apriamo Il pacchetto Il pacchetto si è aperto Il pacchetto si è aperto Signori Non ne vogliamo sapere nulla Mario Mario Guardaci negli occhi Facci vedere E' un oro Madre di Dios E' un oro Vediamo se ne entrano due Ha delle scarpe verdognole E ne è solo uno Ma dai Un solo 86 In questo pacco C'è solo un walk out Raga ma che truffa Che truffa Clamorosa Andiamo a vedere Questa truffa Che ci hanno fatto Anche oggi Nel pacco Troviamo Allora Piano 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 83 83 83 84 Benassero 84 Smalling 84 Tutti prestito Poi Una donna Non mi di che tu sei l'overo Il walk out No non è non è lei Il walk out E' donna rumba Oh oh E' verde Ed è Oh santo signore Benedetto aiutami tu Benedetto aiutami tu Orcribio mio Il walk out Che abbiamo trovato E' gigio donna rumba Madre de dios Lele Madre de dios Per carità Non è malaccio 87 Raga 87 E poi teniamo questo Ma che cavolo è Ma dai Zio ladro Loro 15 doppioni Per santo Benedetto Aiutami tu Oh c'è San Maximen Sì Andi San Maximen Kamada James Vabbè niente di che Qua sotto che c'è Niente di utile Da quel che vedo E quando mai c'è qualcosa Di utile Si opera loro Anche il pack opening Di oggi Finisce qui Un solo Rottu Cavalletta Di Hai perso l'eliminazione Diretta E cavale La cazza De loro E nuovamente Raga Il mio account Raga Io vi giuro Sembra maledetto Raga Il mio account Sembra maledetto Abbiamo fatto già Tre pack opening Zero sculate Dai raga Un altro anno Zero sculate Io non ce la faccio Però Speriamo che Speriamo che Speriamo Leviamo questa maledizione Questa sfortuna di dosso Speriamo bene In tre pack opening Solo delusioni Prima o poi Ce la faremo E la cosa più divertente È che non è che abbiamo Dei pacchi brutti Cioè L'altra volta Il 300.000 Due volte Il 175.000 Il 200 E più mila Raga Niente da fare Prima o poi Un'ascurata La dobbiamo mettere Ragazzi Io Non mi arrendo Dobbiamo mettere Un'ascurata E chi lo sa Quando arriverà Vediamo il prossimo evento Se sarà Caruccio Sarà qualcosa di bello Ragazzi Io vi ricordo Di sostenermi al massimo Con un bel mi piace Nei commenti Ditemi la vostra Iscrivetevi al canale E condividete il video Comunque Dotto questo Vi ringrazio di vista il video Da X È tutto Haters Make me famous